Nella chiesa di San Bernardo continuano ad approdare i giovani talenti marchigiani per l'iniziativa Nuove Sviste, 9 percorsi d'arte contemporanea. Da sabato 10 gennaio è aperta la personale di Matteo Giacchella. Giacchella si presenta come videoartista e ci propone delle vere e proprie visioni in cui l'atto del vedere comporta una più rapida comprensione, cercando di creare una simultaneità di intuizione che avvicina l'occhio alla mente. Questo processo di intuizione è possibile nella realtà contemporanea abituata e a volte a sue fatta ad un alto impatto mediatico, dato dalla produzione cinematografica, pubblicitaria e televisiva in genere, produzione che ha creato una sensibilità e una capacità di decodifica istintiva dei linguaggi visivi, propri delle immagini in movimento. Nuove Sviste è un progetto elaborato da Loretta Mozzoni e Simona Cardinali, curatrice della sezione d'arte contemporanea della Pinacoteca Civica, in collaborazione con Francesco Maria Tiberi dell'Ufficio Cultura, che intende valorizzare e promuovere le ultime tendenze dell'arte contemporanea ed offrire alla creatività giovanile delle occasioni di visibilità. La scelta degli artisti, tutti operanti nella provincia di Ancona, così come la scelta di coprire con essi un ampio spretto di correnti artistiche, delinea uno degli obiettivi su cui si fonda la validità del progetto, vale a dire l'offerta di una molteplicità dei linguaggi espressivi, nei quali è facile rinvenire il riverbero delle varie tendenze nazionali e internazionali. Parte sostanziale del progetto è il legame tra i giovani artisti scelti e la cittadinanza, prestando particolare attenzione alla popolazione scolastica. Per ciascuna delle nove personali, che da settembre proseguiranno fino al mese di giugno, sono previste sia una presentazione dell'evento sotto la forma dell'happening, sia un incontro con le scuole medie e superiori, in cui sarà affrontata in modo stimolante la questione del ruolo dell'artista nel mondo contemporaneo. Nuove sviste, nove percorsi d'arte contemporanea, è un'iniziativa organizzata e promossa dall'assessorato alla cultura del comune di Iesi e dai musei civici, con il fondamentale sostegno dell'assessorato alla cultura della provincia di Ancona.